La nuova puntata di Incontri in Pedemontana, in collaborazione con Valdo TV, ci porta a conoscere l'area verde di Palù, a Moriago della Battaglia. Ci troviamo in un'area verde, tra i paesi di Colbertaldo, Vidor, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Mosnigo e Sernaglio della Battaglia. Ci troviamo nei Palù, nel cuore della Pedemontana Veneta. Il nome Palù deriva dal termine Veneto, abbreviativo di Palude. Un territorio di circa 1000 ettari, depresso, formato da gille, che funziona da bacino collettore di 3000 ettari di bacino imbrifero montano. I Palù sono stati riconosciuti come area di interesse comunitario e fanno parte della rete europea Natura 2000. Poche aree di bonifica medievale sono rimaste pressoché intatte in tutta Europa e nessuna così largamente estesa come i Palù. Quest'ampia superficie di 1000 ettari all'inizio era abbandonata. Furono i monaci benedettini di Santa Bona, a Vidor, a volerne la bonifica e la messa a coltura. Grazie alla manodopera contadina, vennero così costruiti quelli che conosciamo come campi chiusi, poiché delimitati ai quattro lati da filare di piante. Allora, tutto questo reticolato di fossati funzionava proprio come cassa di espansione per tagliare il colmo di piena, per salvare i paesi come Moriago, Fontivo, che anche adesso sono periodicamente soggetti all'uvioni. L'appuntamento con incontri in Pedemontana è per giovedì alle 18.50 e alle 21.50. Grazie a tutti.